Il mercato settimanale del Giotto ad Arezzo si svolge regolarmente in questo sabato, il primo in cui è in vigore il nuovo DPCM, mentre tutta Italia ne sta aspettando un altro, probabilmente molto più restrittivo. Gli avventori però sono in numero decisamente inferiore rispetto alle scorse settimane. Tra i banchi serpeggia il malumore, i clienti non comprano, ci dicono gli ambulanti, la maggior parte di loro non si igienizza le mani prima di toccare la merce, dobbiamo sempre ricordarlo. Sul fronte delle mascherine invece sembra che tutti abbiano capito come si indossano e la loro obbligatorietà. Sul distanziamento sociale anche sono poi gli stessi ambulanti a ricordarlo spesso. La Polizia Municipale è presente dal comandante Poponcini ai suoi agenti per controllare che tutto si svolga secondo le regole. Se così sarà non c'è motivo di fermare il mercato settimanale, ci conferma anche il sindaco Alessandro Ginelli. Sui banchi io ho pregato il comandante di fare chiarezza, ogni banco deve esporre il numero massimo di persone che possono stare contemporaneamente al banco mantenendo la distanza. Ovviamente devono portare la mascherina, prima di toccare qualsiasi cosa che sta sul banco si devono sanificare le mani. Questo è forse il punto più critico, ci vuole un'attenzione da parte dell'esercente.